Ben trovati dal Tg della mobilità, continuano gli interventi in città sulla rete tramviaria, sino a venerdì 14 agosto, bus al posto dei tram delle linee 5, 14 e 19 per lavori in piazzale Labicano, via Eleniana e sulla preferenziale di via Prenestina, deviazioni anche per le linee 81 412 MC3 ed NMC, dettagli su muoversiaroma.it, inoltre bus navetta al posto dei tram e sino a questo venerdì la modifica in questo caso per lasciare spazio e lavori sulle alberature di Viale Tiziano. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione del Tg della mobilità. Grazie a tutti.